Oggi è una giornata in cui l'imprenditore è protagonista, siamo giunti alla sesta edizione di Expandere e al centro c'è il singolo imprenditore perché la mossa può essere fatta e concepita insieme quando serve a ciascuno. Gli imprenditori cosa hanno fatto? Oggi si intervisteranno tra di loro, intervisteranno lo stesso Assessore Fascione sull'innovazione, ci saranno momenti in cui faranno uno scambio di esperienze ma anche matching tra di loro, incontri B2B. Nell'ambito di questa azione sinergica e di presenza attiva e responsabile sul territorio, attraverso di me, io presenterò allo stesso Assessore Fascione e al Presidente di Unione Camere, cinque proposte che possono essere occasioni per un rilancio della nostra economia. Partiamo da ciò che siamo, da una valorizzazione nostra, da un tentativo di coesione e dentro una valorizzazione di quello che c'è.